come faccio il video con il cellulare quindi vi posso fare anche delle comunicazioni proprio veloci gli smosh in spagnolo hanno praticamente fatto un video, fanno un video ogni settimana dove parlano di quello che viene messo nei facebook degli smosh e praticamente hanno fatto un video dove parlano di mille accendini e anche di altre cose però iniziano molto incentrato sul video della nutella e preservativi di mille accendini e quindi niente lo comunico, lo comunico, dice perché lo comunico? ci hanno un milione di iscritti, un milione di iscritti su youtube quindi probabilmente sto video farà un milione di visite quindi va benissimo così ragazzi quindi l'obiettivo dei 7 milioni è oramai in pranto si punta dritto dritto a 10 milioni proprio come traguardo minimo